Carlotta Jet è una femmina nata il 12 aprile 2018. Si tratta di una figlia di Naglò. Naglò è uno degli stalloni garanzia dell'allevamento toniati. La mamma poi romanza Jet è una super gil che ha già prodotto l'ottima Vasinis Jet, cavalla precoce, vincitrice presto e tuttora tra le migliori femmine della generazione lettera A. Romanza Jet ci riporta ad Art Deco che è stata una fattrice eccezionale basilare per l'allevamento toniati. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!